via, 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 questo è un bel pesciolino 2, 2 ce n'è, 2, 1 qua, via, 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 via 1 lo lascio a te che è rossa, questo ce n'è andato, questa è parola, giro, non lascio a te, no, no, ti lascio a te, no, ti lascio a te, vai David, tocca a te, è tua, vai David, gira, 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 vai dai david dai 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 a e non so, un pece e hanno pianto ma come va ma che voia dai, ma è più rosso del virus no, la ffff no 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 mi ha lasciato la bocca asciutta oh ma che bello io sono contentissimo oh and yeah yeah e yeah c'è il tirano di roba 300 mila la chiera l'ha preso l'ho preso ohohoho ohoho è bello questo è bello questa è bella vallgina se lo farà rosso di due se posso scelgo ma è bello se lo farà rosso di due bella bellissimo io pure bello bella 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 io sono pieno attenzione ci possiamo fermare per me attenzione ma tu sei fino patria porca miseria questa grossa la metti in acqua eh no? bene, bene, bene non c'è bella gioca di nuovo così ci sono bella non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è